Start, 2, 1, initial mission, and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Source of Madness, un gioco uscito già da qualche tempo su Steam a costo di 19,99. E' un Souls-like, un Rogue-like a tema Lovecraftiano. In pratica vi faccio vedere da dove sono arrivato, insomma che post-tutorial vedete questa grafica di gioco molto strana, stranissima. Siamo dei generalisti quindi siamo praticamente, nel gioco potrete sbloccare varie classi, noi adesso siamo una classe generalista e il gioco parte da questa schermata. Questa schermata e abbiamo il nostro inventario dove ho equipaggiato due anelli che mi danno due poteri. Lo squarcio di livello 1, un arcano, e invece fa sempre danno arcano ma di tipo fuoco l'altro anello. Poi vabbè ci sono altre cose che potete equipaggiare, vedete è un po' particolare qua le nostre statistiche e qua soprattutto l'albero delle abilità. L'abilità ci consente di acquistare delle cose, diciamo queste abilità qui, usando in basso a sinistra, vedete dove c'è il pallino rosso, quei punti lì. Quei punti lì li manteremo anche se moriremo, ma qualora noi dovessimo perire durante le nostre avventure, ripartiremo con un altro personaggio, dalle stesse fattezze ma senza l'equipaggiamento. Ma queste cose le teniamo così come le chiamiamo anime che manteniamo. Vedete qua abbiamo il potenziamento del generalista, che poi ci porterà ad essere un geomante, un cormante, un piromante, insomma varie cose. E andando avanti, qua ne abbiamo anche altre, possiamo scegliere all'inizio tra tre cultisti, piuttosto che avere una mezza fiasca di vita. Ma io voglio prendere questo. Tutti per uno. Perfetto, non proseguo oltre. Una peculiarità di questo gioco, a parte la grafica che è stranissima, tra l'altro sono ambientazioni molto belle e a quanto ho capito sono generate dalla IA procedurali, così come anche i nemici. Il gioco ovviamente, vabbè, ormai non lo è nessun roguelike, un gioco originale, però un po' il difetto è quello dei mostri. E ora ve lo farò vedere, perché per quanto l'ambientazione mi piaccia tantissimo, gli nemici sono un po' troppo confusionari. Adesso io qua non so dove sto andando, c'è una porta lì, ma... Vedete, abbiamo anche questo doppio salto. Vediamo un po' cosa vuole questo. Niente, evidentemente. Stiamo continuamente scendendo, non so dove, onestamente. Si attacca con i due grilletti, sto giocando ovviamente con il pad. Non c'è una rotolata in questo gioco, ma c'è, premendo un tasto del pad, vedete, possiamo teletrasportarci, che equivale praticamente a una schivata. Ora risaliamo e vediamo dove stiamo andando, ma io volevo solo esplorarlo qua adesso con voi, ma mi sa che dovremo tornare su, perché qua sotto non c'è niente, sarà probabilmente qualcosa. Questo è il lab iniziale, il lab principale dove torneremo ogni morte, quindi probabilmente c'è qualcosa che poi si sbloccherà col tempo. Va bene. Va bene, cioè da quella luna iniettata di sangue ci serenisce, va bene. Abbiamo il necroologio. Vedete, qua attacchiamo con la palla di fuoco e qua attacchiamo con l'altro attacco. Andiamo nelle terre di Creta, che è l'ambientazione di questo gioco. Di questo gioco, vi dico la verità, mi ha ispirato e mi ha portato appunto a chiedere allo sviluppatore di poterlo portare in video, l'ambientazione, perché l'ambientazione le trovo veramente molto carine. Vedete che i mostri li trovo un po' confusionari. Perché non si capisce dove stanno puntando. Abbiamo un autore della conoscenza, vuoi parte dalla cutscene. Ah, ci ha fatto vedere questa intro. Voy a mondo. Perché si indica con lo stick destro e si spara. Sistema di combattimento un po' discutibile, ma mi riservo poi di giudicarlo quando avremo delle armi diverse, magari. Però non è proprio comodissimo. Oh, lancia elettrica. Quindi ho preso la lancia elettrica. Che mi piace senz'altro di più di questo. Che si usa con il gaveletto sinistro. Vediamo un po' come funziona. Uh, figo. Facciamo anche danno da fuoco che non si sa mai. Uh, c'è come movimento. Uh, questo spara però è un po' più minaccioso. Ok, ucciso. Come un movimento dei mostri mi ricorda molto Barotrauma. Guardate che bello il riflesso nell'acqua. Con l'ambientazione Lovecraft in tutto e per tutto. Guardate cosa c'è lì. Ammetto, perché è inutile poi girarci intorno, che sono perplesso dal combat system. Perché è un po' confusionario. Non è il classico Soltan Sanctuary. Dove menate le mani. Qua è tutto a... Ci sono questi movimenti che non sono minimamente prevedibili. E che vi mandano un pochino fuori. E ora come ora anche la colonna sonora non è proprio memorabilissima, insomma. Sto anche per morire. Ma l'ambientazione mi piace. C'è anche una bella intro, un bel video iniziale, quindi... Vedete che non si capisce in mezzo a cosa mi trovo. Poi continuo a sparare. Magari me la cavo. Stanno cadendo i pini. E soprattutto, da quello che ho letto, il movimento dei nemici, il comportamento dei nemici, è dettato anche in questo caso dall'AIA. Quindi l'AIA si adatta a noi. Inizia ad apprendere. L'ho ucciso. No, non ancora. Magari se ce la faccio. Qua ce n'è un altro, c'è anche un forziere. Volevo aprire il forziere, ma mi sa che... Forse siamo in salvo. No, ci stanno inseguendo tutti. Tutti ci stanno inseguendo. Si può entrare qui? Ok. Ok. Vediamo se si può entrare qui. Ok, siamo entrato. Uff. E questo vende. Il mercante eroe. Cosa desideri comprare? Ok, mi vende delle cose. Si va tutto tramite anelli. Occhio di Cthulhu. Più 20 di velocità. 5-6 danni a cani. Danni da fuoco. Questo è un cappuccio. Più 40 di vita. Queste delle perle che ci danno resistenza. Il cappuccio consunto. Più 26 vita. Reduzione dei tempi di ricarica. Ah, ho speso i soldi. Non posso montarlo lì? Qui? Sì. Ok. Ma non mi posso curare. Articoli speciali di Roger. Ho proprio... Ok, questo vende altre cose. Però... Sempre ha soldi. Ma i soldi li ho finiti. Quindi non se ne parla. Torno fuori. Ed è esattamente come l'avevamo lasciato. Io cerco di darmela a gamba il più possibile. Perché qui... Diciamo che è abbastanza frenetico. E il movimento... E lo ripeto ancora. Lo ripeterò ancora e ancora. Dei nemici. È quantomeno discutibile. Qua c'è un portale. Sono morto. Sono molto morto. Continua il tentativo. Però il gioco comunque su Steam ha recensioni molto positive. Perché a parte del movimento dei nemici, tecnicamente si comporta piuttosto bene. Però sono comunque sì perplesso. Perché comunque... Allora, abbiamo tenuto... Adesso diceva che potevo scegliere... Trattare... Ma in realtà non è vero. Cioè, avevo sbloccato qualcosa prima, ma... Vediamo. 280. 300. Eh no, non posso sbloccare niente. Ma è questo? Qui dentro, invece... È bellissima la musica. Questa è la guida Supremo. Non indosso nessuna maschera. Vabbè. Va bene. Nel carologio. Ah, sì. Tutti i nostri... Tutti i nostri... Precedenti personaggi. Qua dentro? Leva della pedana. Si va giù? Ah, dove eravamo prima. Vabbè. No, no. Voglio entrare dove eravamo prima. Voglio vedere un attimino come me la cavo. Ma in realtà... Abbiamo l'equipaggiamento standard, ma non abbiamo quello che abbiamo trovato dopo. Perché anche i soldi, credo, siano stati resettati. Vediamo se me li ha tenuti. Ma non credo. No, infatti non abbiamo più niente. Il mondo è diverso qua. Totalmente diverso da prima. Eh sì, mi ha ripreso questo attacco qua che non mi piace neanche un po'. Infatti non c'è... Diciamo, hitbox in questo gioco ed è uno dei grandi difetti, secondo me. Perché comunque voi colpite, ma quando gli finite addosso non capite se venite colpiti o meno. Ma lo capite solo guardando la vita. Infatti io guardo più che altro la vita. Per capire ho perso 5 punti vita finora. Il muflone qui. Io ho poi capito perché ci sono anche questi... Bisogna mirare, quindi è interessante sta cosa. Cappuccio della celerità. Ok, abbiamo preso un equipaggio mese. Ce l'ha già messo, però possiamo vedere che cosa ci dà. 37 vita, 15 movimenti. Siamo un po' più veloci. Squaccio, putrefrazione velenosa. Adesso eliminiamo questo, ok? Squaccio, putrefrazione velenosa. Ho scelto questa. La metto al posto di questo e voglio vedere cosa fa. Danni naturali. Ah, lancia tipo delle spore. E rimita misantropo. Ok, ci vengono... Potete vedere queste visioni, un po' come la torre di prima. Ma non si capisce. Questi alberi che si piegano così non li ho capiti, ma... Devo ammettere però che giocando, pur sapendo comunque più o meno quello che... Uh, che dolore. Quello che c'era da vedere dà una discreta soddisfazione comunque l'eliminare i nemici. Quello senza dubbio. Nonostante... Come ho detto, il fatto che i nemici abbiano un ragdoll terribile mi fa più dire peccato perché... Oddio. Questo mi ricorda anche un gioco che deve uscire breve, che sarà uno sparatutto con questa ambientazione qui. Di cui adesso non ricordo il nome. Ma se tu, che sei arrivato fino a questo punto del video, ti viene in mente, fammelo sapere. Giusto per farmi capire che... Non te ne sei andato nei primi due minuti. Ma cos'è una challenge questa? Ah, da qua si può uscire. Però io voglio restare qui perché voglio vedere se... In questa partita, questo portale mi dà qualche tipo di ricompensa. Ok. Ah, forziere. Una biglia. Sapete che è molto interessante sta cosa perché... Ho preso la biglia. Più 5 riduzioni del tempo di ricarica, più 5 vita, 5%. In realtà abbiamo 144 adesso totale. Sapete che all'inizio lo condannavo un po', anche quando l'ho provato io prima. Ma devo dire che adesso è abbastanza stimolante perché abbiamo trovato questo portale con dentro dei nemici. Sicuramente nascondeva qualcosa, infatti non sono scappato. E in effetti poi ci ha ricompensato con questo. Che poi sicuramente perderemo quando moriremo. Però intanto abbiamo solo rimandato l'inevitabile, cioè il fatto che dobbiamo... Abbattere questi nemici fastidiosissimi. Che vedete poi gli tagliate i pezzi, ma non è chiarissimo quello che fate, cioè... Siete più presi a schivare i colpi. Infatti, per come sono fatti, al momento per me gli nemici sono indistinguibili. Mi dici, hai visto quel mostro che... Ma a me sembra tutto uguale. Ecco, questa è un po' la reazione che è un peccato. Poi, magari voi super fan di Cthulhu, di Lovecraft, mi direte, ma no, ma tu non capisci niente. Quello è chiaramente un... E poi il nome del mostro, però... Purtroppo... Che poi quest'arma qui la voglio cambiare il prima possibile perché... I danni naturali non ho ben capito a chi li faccio perché lanciano quelle spore lì, ma... Bello il ponte. L'ambitazione è molto bella. E' anche, giustamente, anche un po' permissivo il nemico. Nel senso, non è che un colpo vi uccide. Quindi è un po' Souls-like, ma fino a un certo punto. Tanti nemici... Però permissivi. Infatti, tante volte li camminate in mezzo e non vi succede niente. Ecco, di là ho visto qualcosa che non mi piace. Si entra? Si? Bello anche all'interno degli edifici. C'è qualcosa? Che si nascondeva nel soffitto? Ah, uso il teleport. Adesso appena riesco a risbloccarlo. Questo è un segreto. Cappuccio semplice, ma bisogna scegliere quale mettere. 39 vita. Eh no, meglio questo. Non ho ben capito cosa stia cercando di fare, ma... Ancora? Ecco, questo è stato forse il primo colpo chiaro che ho ricevuto. Ok, affrontiamoci qui, Marrano. Nooo, stavo così bene sopra lì. Ok. Fammi recuperare questo che mi trovo meglio con quello. Con la lama magica. Non ho pozione perché non l'ho sbloccata. Però ho messo insieme una bella serie di punti. E' più o meno come parima questo, niente da fare. La scala è fatta in modo... Poi caccia, miseria. Praticamente non hanno fatto l'animazione, quindi dovete saltare e salite. Forzierino. Prima mostro. Scudo di fuoco. Scudo di fuoco l'ha già messo, quindi dovremmo avere delle protezioni... Ah no. No. LB. Bello. Questo è molto bello. Ok. Appena posso lo riattivo perché... Tra poco si ricarica. Beh, magari non adesso. Ma sapete che comunque ha il suo perché? Cioè, al netto dei difetti è divertente, eh? Vabbè, questi li lasciamo giù, tanto... Non tornerete mai su. L'ambientazione, soprattutto quelle erbe lì, quella... Quel manto erboso lì è molto bello, molto notturno. Gli sfondi, gli sfondi, mi sono piaciuti subito quelli quando li ho visti. Dai, scudo. Ah, è già morto, subito così. Sto tagliando le zampe. Proprio ho visto le zampe partire via dalla lama che ho lanciato. Il problema è che... Ok. Sto scappando il più che posso per evitare i mostri. Apri, apri, apri. Ok. Fuggi sciocco. Che questo è grosso. Spacca tutto, spacca tutto. Ok. Adesso lo attacchiamo da qua. Beh, quello è un boss, ma non mi interessa perché tanto resta di là. Mi sto dando... Grotta delle anime perdute. Grotta delle anime perdute. Figo. I nomi mi piacciono. Salva i desci, continuo al tentativo. Se io faccio così, salvo... Cioè, premo questo, salvo ed esco. No, no, riprendo. Continuo al tentativo. Sì, sì. Vediamo se ci rigenera la vita. No, ma siamo praticamente morti. Un altare misterioso. È stato scoperto l'altare dei piromanti. Interessante. Sbloccato. Abbiamo sbloccato la classe del piromante adesso, allora. Ok. E tanto adesso si schiatta perché... Ok. Quindi, mi domando... Ecco, bisogna demolirlo per andare su. Però qua su però non c'è niente, quindi... Torniamo giù. Qua sotto si va? Sì. Sì, vabbè, sono morto. Molto male. Classe generalista, 14 minuti. Continuo al tentativo. Siamo morti. Danno massimo, danno totale. Ma è divertente comunque, nonostante tutto, eh? Cioè, comunque le recensioni sono attendibili in questo caso perché comunque il gioco è divertente. Ah, ok. Ok, questi sono i tre che possiamo scegliere all'inizio. Sono generalista, generalista, generalista. Ne abbiamo tre che hanno equipaggiamenti diversi. Questa è la cosa che avevo preso prima. Per scegliere quale... Però parto sempre come generalista. Vediamo un po' se riesco a sbloccare qualche altra classe. Ho 765 punti, quindi non è tantissimo. Allora, vediamo un po'. Questo è generalista. Anello. Qua mi dà degli oggetti già all'inizio. L'anello del ragno. No, però vorrei sbloccare... Elettromante. No, per farmi trovare indietro che è un po' scomoda sta cosa. Elettromante. Elettromante. Criomante. Geomante. Generalista. Icormante. Eh, sarebbe bello sbloccare la classe. Ed è l'unico, credo, che mi... Qui potrei tentare una prossima run di sbloccare. Perché l'elettromante... 1800, 800 questo, 800 l'icormante e il geomante. Eh, sì. Tante altre classi, sì. Perché qua, invece, potremmo anche prenderci la fiaschetta. O ricevere dell'oro. Fiasca di vita 1. Affinità col vuoto. Aggiungere uno scatto in più. Figo. E più in alto, invece, cosa si fa qua? Fiala remota 3. Può essere usato per guerriere. Dopo ogni bioma. Carica più 1. Ok. Molto interessante. Ragazzi. Questo è la Source of Madness. 19,99 su Steam. Non è male. Bisogna un attimino abituarsi all'inizio. Per quanto... I nemici è un po' un peccato che abbiano quel ragdoll così. Però, alla fine, ha senso. Perché siamo in un mondo di Cthulhu. Un mondo di Lovecraft. Quindi ci può stare. E ora, attendo anche i vostri pareri qua sotto nei commenti. Vi saluto. E vi rimando a un prossimo video non play. Alla prossima. E ciao, ciao.